Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A11 coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In direzione Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Peretola. La situazione in A1. Tra Firenze Nord il BV1 variante coda per traffico intenso in direzione Bologna. Tra il BV1 variante Baccheraia e Calenzano coda per lavori in direzione Roma. In Fipilì coda tratti tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze e tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno per lavori in corso. Tra Scandicci e Firenze vi adotta l'Indiano verso Firenze coda dovute al traffico intenso. In uscita la Strassigna e Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze coda per viabilità esterna congestionata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!